Io saluto e ringrazio Giampiero Avuruscio che è il nostro ospite di questa mattina perché mi parlerà appunto, altro che di Winniang e Kate, ma di un'iniziativa benefica che si tiene domani sera al Teatro Verdi di Padua. Cosa vi siete inventati Giampiero? Guarda, noi per beneficenza ci inventiamo di tutto, no? Sai, io penso che noi medici abbiamo nel nostro DNA anche una vena artistica. Io conosco tantissimi colleghi che effettivamente hanno... Senza andare per forza a Patch Adams o altri tipi di medici di questo tipo. Beh, gli annacci. Ah beh, sì, è vero. Anche Paolo Conte. No, Paolo Conte forse era avvocato. Ma ce ne sono molti effettivamente. Allora, organizziamo questo spettacolo di beneficenza organizzato da un'associazione che si chiama Padova Ospitale insieme a un'associazione culturale Gioacchino da Fiore. I fondi vanno per il Museo della Storia della Medicina e della Salute di Padova. Quindi raccogliete i fondi per fare questo museo. Io intanto sto facendo vedere il sito internet di Padova Ospitale Onlus che è appunto www.padovaospitale.com e ci sono degli eventi tra cui appunto il concerto di primavera il 18 gennaio 2011. All'auditore un po' l'inizio è scritto però. Sì, ma questo è un'altra... Il 21 gennaio, sì, per la Casa di Accoglienza per Malati Oncologici Lucia Valentini Terranei perché effettivamente Padova Ospitale ha moltissimi progetti che segue anche di cooperazione internazionale. Ce ne sono molti insomma. E questo è uno, insomma, si è adoperata anche per reprire fondi per la sondazione che c'è stata a Padova. Insomma, quindi sono molti i progetti. Ma ritornando al nostro spettacolo, ricordo martedì 18 gennaio, quindi domani sei al Teatro Verde. È uno spettacolo veramente molto particolare di danza, musica, poesia e cabaret in cui non ci siamo solo noi medici che ci esibiamo, insomma, sotto varie forme, musica, canzoni... Tu cosa fai di bello, Sampiero? Ma io un po' organizzo questo perché la mia fortuna è di conoscere persone che hanno un vero talento artistico. Ma non ti esibisci poi sul palco? Sì, no, no, no. Mi esibisco, suonerò la chitarra, accompagnerò il professore Abbatangelo in una sua performance. Il professore Abbatangelo è direttore al Dipartimento di Histologia dell'Università di Padova e poi canterò anche una canzone. Che canzone canti? L'amore ci cambia la vita. Ah, però. Di Gianni Morandi. È bello. Insieme però a noi medici si esibiranno anche politici, amministratori, locali, regionali, nazionali. Fammi un po' di nomi. Ma di tutti gli schieramenti. Fammi un po' di nomi perché sono curioso. Ho un elenco che... Allora, intanto cominciamo con... si esibirà il sottosegretario alla giustizia che è la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ah, ah. E cosa fa? Farà un numero insieme al consigliere regionale del Partito Democratico che è Piero Ruzzante. Insieme canteranno... Opposti schieramenti ma uniti per questa iniziativa di solidarietà. Questo è un messaggio molto importante secondo me che parte da Padova. E canteranno una canzone famosissima di Mina, all'epoca era cantata da Mina accompagnata da Alberto Lupo che è Parole Parole. Bravo. Vabbè, poi magari dite questa canzone più tardi dopo la nostra chiacchierata. Poi abbiamo anche un altro consigliere regionale che è Leonardo Padrini che insieme al Vice Sindaco del Partito Democratico di Padova Ivo Rossi insieme al magnifico rettore il professor Zaccaria insieme al professor Terranova che è esponente dell'Udc. Cosa combinano? E loro reciteranno insieme a Baldolicata che insomma è anestesista si sa anche della destra si esibiranno in una performance in quest'amore di Prevera. Molto bello. Ma sai poi io immagino che ci sia anche una notevole preparazione di questi eventi perché se non li fai bene poi sembrano delle convention tra ubriachi e invece io so che tu sai suonare e cantare molto bene per cui dico sempre se tu non avessi fatto il medico probabilmente avresti fatto il pianista sulle crociere e magari finiva come Berlusconi diventai presidente e consiglio. Hai capito? Diventato per altre cose. Eh sì, va beh insomma. D'altronde è un po' così. Invece ci sono cioè immagino che ci siano delle prove e ci siano del lavoro dietro. Certo, sì, le prove guarda dato che appunto noi non facciamo come lavoro questo e allora le prove sono rubate nei momenti per esempio c'è la domenica il sabato sere il venerdì ma io ho visto veramente una grande volontà un grande impegno un grande entusiasmo per esempio abbiamo provato quando è stato sabato sere insieme al capogruppo del PDL Alberto Salmaso insieme a None Vigeni che è presidente della seconda commissione del Partito Democratico Beatrice della Barba che è un medico neonatologo e anche consigliere appunto del Partito Democratico abbiamo provato così la recitazione di una poesia finale che verrà detta insieme a loro ma c'era questo grande impegno questa grande partecipazione io penso che se in un momento come può essere questo di martedì 18 gennaio persone che generalmente occupano posti e ruoli molto spesso contrapposti anche nella vita politica della città però si ha questa volontà di mettersi insieme di appartenere a un unico partito in quella sera che è quello della solidarietà per un fine comune secondo me è un messaggio molto forte che parte da Padova e che non so quanti effettivamente possano ripetere in altri posti Padova ha questa caratteristica secondo me anche perché poi è stata la cosa divertente è che voi avete realizzato quasi di fatto il tutto estaurito avete pochissimi biglietti a disposizione è vero questo è vero questo ci riempie anche di gioia da un certo punto di vista dall'altro spero che anche gli ultimi biglietti che sono disponibili insomma vadano così verranno venduti direttamente la sera no 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 ma è in preventito secondo me è sempre meglio andare prima perché domani inizieremo alle 20.45 precisi quindi non si va già oggi pomeriggio al Verdi trova la prevenita perché è aperto oggi pomeriggio la biglietteria quindi poi per dirti sarà anche presente la Mariella Mazzetto della Lega che reciterà però non la fate recitare insieme con Zanonato altrimenti sai che loro si legano spesso sono come cane gatto reciterà con un tecnico di neurologia che si chiama Michela Baraldo che reciterà in Veneto una bella scenetta lei farà la parona la parona di una villa veneta visto che è anche membro della fondazione delle ville venete pensa per meriti culturali sicuramente poi ci sarà anche l'odontorio non poteva non poteva che recitare in Veneto poi Mariella Mazzetto quella secondo me diventa una cosa una cosa molto divertente allora lo spettacolo chiaramente serve per raccogliere fondi per questa associazione si per il museo della medicina museo della medicina Zanchiero però io credo di aver deliberato quando ero consigliere di amministrazione in università nel 1998 nel 1998 oggi siamo nel 2011 lì l'affidamento non l'affidamento comunque la gara d'appalto come mai dopo 13 anni ancora dopo 13 anni stiamo ancora padando del museo della medicina e non possiamo dire i nostri radioascoltatori i nostri telespettatori del canale 609 del digitale andate in via San Francesco che c'è il museo della medicina sono passati 13 anni possiamo dire che il 4 ottobre però sarà inaugurato e finalmente dopo lunghe penosa manattia ecco il secondo me anche vedi questo spettacolo che facciamo con tutte le istituzioni presenti c'è l'università c'è il comune c'è la fondazione del museo io ricordo anche vorrei ricordare spendere due parole che questo progetto il museo della medicina era stato come dire promosso anche seguito con molto entusiasmo e molta passione anche da Gian Paolo Braga che è da poco l'ex amministratore direttore generale il primo direttore generale dell'azienda ospedaliera di Pado anche uomo di grande umanità altre che di grande capacità professionale che è scomparso proprio quest'anno esatto un paio di settimane fa lo spettacolo sarà anche dedicato a lui perché in questo progetto ci credeva molto e doveva essere presente proprio Gian Paolo Braga a spiegarci anche di questo museo della medicina e quindi questo è un motivo in più anche per farlo però la presenza di tutti questo è anche di stimolo perché effettivamente possa partire finalmente questa perché come dicevi tu sono tantissimi anni tantissimi anni troppi anni per una come dire un museo che sono anche le radici della storia di Padova perché io ricordo che la medicina moderna tutto ciò che noi sappiamo conosciamo di medicina oggi nasce a Padova si può dire i grandi anatomisti i grandi patologi sono sono nati a Padova io dico sempre insomma tu sei angiologo io sono angiologo ma attiva scolare guarda sai benissimo che fu Vesalio poi uno dei capi scuola c'è una via a Padova che si chiama via Fabrizio d'Acquapendente esattamente dove c'è la squadra a serie Fabrizio d'Acquapendente ma insomma Padova è tappezzata di queste vie di grandi uomini se noi conoscessimo via Fabrizio d'Acquapendente d'Acquapendente fu la persona che scoprì le valvole delle vene e fu un grande anatomico perché noi dobbiamo anche a lui la costruzione anche del teatro anatomico che noi abbiamo che poi fu copiato in tutto il mondo certo e poi fu un altro Harvey che studiò a Padova perché Padova di allora era come gli Stati Uniti di oggi cioè le grandi scoperte la grande scienza la grande cultura veniva da Padova e veniva poi diffusa in tutto il mondo perché se lo domandi a Colasio è tutto merito di Carraresi ma insomma andiamo andiamo avanti io ho girato un po' in altri posti insomma del mondo sono stato negli Stati Uniti ho frequentato anche qualche ospedale statunitense però credimi che quando sapevano che io mi ero laureato a Padova era un bel biglietto da visita quindi è peccato perché questo museo della medicina veramente può attrarre a livello europeo e internazionale moltissimi qui a Padova insomma quindi lo sforzo e quindi quello che vogliamo anche dimostrare con la presenza anche di tutte le parti politiche da destra a sinistra insieme è questa volontà che finalmente si possa inaugurare questo che poi non è solo un museo della storia di antico ma è anche punto di formazione per gli studenti universitari e anche per quelle che sono le scoperte più recenti e future anche poi speriamo che non di solito quando fai un museo vuol dire che sei arrivato al capolinea non hai più nulla a dire io spero che non sia così per la tradizione della medicina padovana ma d'altro mondo Gino Gerosa è bravo la settimana scorsa ha presentato uno studio a livello mondiale sui fattori di rigetto degli organi che vengono trapiantati quindi vuol dire che siamo ancora abbastanza lontani sarà anche munito di tecnologie interattive strumenti multimediali insomma in cui sarà possibile fornire anche informazioni utili ai cittadini insomma e sarà in questo ospedale di San Francesco Grande dove è nato il primo ospedale di Pado e appunto l'inaugurazione di fianco alla chiesa di San Francesco proprio in occasione di San Francesco insomma faccio vedere ai nostri telespettatori del canale 609 di Telecita City Live che oltre a questa questa bella iniziativa il Teatro Verdi appunto promossa da Gian Piero Avruch e da altre persone per l'associazione Padoo Ospitale quindi per il Museo della Medicina in via San Francesco c'è anche sempre domani sera al Gran Teatro Geox il concerto Red and Friends Live ovvero c'è Red Canzian con un sacco di altri artisti da Gigi D'Alessio a Mario Biondi a molti altri artisti che si danno appuntamento al Gran Teatro Geox per suonare per cantare il biglietto si può acquistare in pre-vendita 18 euro e viene interamente devoluto in beneficenza perché i costi li supporta poi la provincia e la regione del Vento la provincia della regione del Vento se mi permetti anche di sottolineare questo questo vedi questa contemporaneità proprio il 18 gennaio insomma io ieri sera ti dicevo aspetta Giappiero io so che voi l'avete organizzato da mesi da mesi in avanti anche perché il Verdi Teatro Verdi di Padova la sua programmazione non lo blocchi da una settimana all'altra ci metti un sacco di tempo quindi da 5-6 mesi Sampiero Vruscio sapeva già che il 18 di gennaio ci sarebbe stata quella programmazione la cosa che mi faceva specie è che poi la provincia vi piazza la sera stessa uno spettacolo al Gran Teatro Geox va bene che voi avete fatto il tutto esaurito quindi però magari viceversa perché voi quanti spettatori fate al Teatro Geox? 600 600 spettatori ecco 600 spettatori che magari volevano andare a vedere lo spettacolo Renda in France non ci possono andare perché è in contemporanea sì ma sono anche circuiti diversi perché da lì vengono tutti dentro però è vero guarda però questo dimostra una cosa secondo me perché appunto è capitato in un modo sicuramente assolutamente casuale casuale però questo dimostra come Padova si pone come capitale della solidarietà perché guarda che ci sono tantissime di quell'associazione ma è la città Padova è la città che ospita la città della speranza solo per questo può dirsi capitale della solidarietà di associazioni ma sono tutte associazioni non sulla carta associazioni molto attive che operano nel sociale operano nel mondo culturale e questo veramente è un orgoglio di Padova questa contemporaneità forse io lo vedrei più proprio come un discorso positivo perché io sono sicurissimo che come si è riempito il teatro verde si riempirà anche il molto più grande diciamo teatro Geox e si saprà dimostrare ancora una volta come Padova la città di Padova i cittadini padovani sono molto vicini alla solidarietà ricordiamo che nel caso del allora nel caso della serata lo spettacolo si chiama Le Stagioni Le Stagioni si ed è organizzato San Piero Avruccio ed altri per sensibilizzare per raccogliere anche fondi per il museo della medicina che verrà inaugurato ad ottobre di quest'anno finalmente il giorno di San Francesco il giorno di San Francesco quindi il 18 di ottobre 4 ottobre vedi che sono miscredente e ignorante anche come diceva sempre Don Nicola Buoretto che era quel parroco che mi faceva dottrina mentre sempre domani sera c'è al Gran Teatro Geox Red and Friends ovvero Red Canziani insieme con Mario Biondi insieme con Gigi D'Alessio insieme con un sacco di artisti si esibiranno per raccogliere fondi per devolvere poi alle popolazioni colpite dalla recente alluvione di novembre un'altra chicca del nostro spettacolo dimmela ecco allora tu sai la Milvia Boselli sappiamo che è ex presidente del consiglio già parlamentare Milvia Boselli si esibirà perché lei pochi lo sanno ma è un'avanzatrice di danza del ventre ebbene lei si esibirà in un balletto indiano con ah ok perché sei alla sueta indiano con la dottoressa Bovo il tappeto volante io le voglio io le voglio anche bene alla Milvia Boselli che è una persona simpaticissima e anche curta molto brava ho capito ma io voglio dire io potrei fare la danza del ventre con la panza che ho capisci potrei fare come il mago Pancione che era un cartone animato che guardavo da bambino ma a Milvia Boselli poverina con l'età che c'ha insomma mi va bene la danza indiana mi va molto meglio se posso annunciare qualche altra performance abbiamo l'assessore alla casa il professor Gianni Battista Di Masi che canterà via con me di 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 Paolo Conte insieme insieme al gruppo insomma un gruppo che lo accompagnerà così anche Venuleo farà una scenetta insieme al dottor Nicola Scaiella insomma anche come ospite avremo anche il dottor Alessandro Belluzzo che è chirurgo ma è anche presidente di Credi Veneto ah però ecco quindi insomma si e poi vedo che l'hai omesso l'hai omesso perché essendo un medico che lavora in ospedale c'hai paura ma lo dico io c'è anche Adriano Cestrone Fortunato Rao bravi sì sì i nostri elettori generali io non li ho messi sono special guest io penso che dopo questo spettacolo saremo tutti licenziati eh sì Giuseppe Zaccaria che è il rettore magnifico rettore il rettore dell'Università di Padova insomma dà l'idea anche che c'è una classe dirigente e una classe politica a Padova che ha la voglia e il piacere di non prendersi per forza sempre sul gioco e quindi anche sempre per fini benefici insomma questa è una grande realtà è una grande fortuna che abbiamo e credimi è un messaggio unico perché non è soltanto il fatto che i medici fanno fanno questo spettacolo ma questa volta delle istituzioni importanti come azienda ospedaliere l'Università e soprattutto i politici di tutti gli schieramenti che si mettono insieme insomma questo credimi è un messaggio unico è un messaggio unico togliermi una curiosità il sindaco di Montegrotto Luca Claudio dove veste c'è anche il sindaco di Padova ma il sindaco di Padova però è in viaggio con la scuola ah è vero che parte domani perché avrebbe assicurato anche la sua presenza ma purtroppo non può essere presente ci sarà il vice sindaco tu devi togliermi una curiosità il sindaco di Montegrotto Luca Claudio che ha partecipato ad un film farlocco che appunto era prodotto da un tale Massimo Emilio Gobbi perché non l'avete invitato lui ha già un'esperienza era andato quel film là poi è stato presentato almeno guarda perché noi ci siamo concentrati visto che abbiamo avuto il patrocino del comune di Padova sulla città di Padova però insomma è sempre disponibile organizzarne uno la prossima volta anche con Luca Claudio sarebbe divertente io saluto e ringrazio Gianpiero Avruscio che è stato ospite mi scuso per i 5 minuti di ritardo ma sono in trattura ce ne avevo anche io 3 minuti di ritardo stamattina quindi non preoccuparti che è stato nostro ospite questa mattina sul canale 609 del Digitale Terrestre e anche le frequenze di Radio Genius l'appuntamento è domani sera ultimi biglietti andate lunedì oggi pomeriggio per prenotarvi gli ultimi biglietti il 18 gennaio quindi per martedì domani ore 20 e 45 a Teatro Verdi i biglietti sono a Teatro Verdi va bene quindi al Teatro Verdi di Padova c'è questo spettacolo le stagioni unico eccezionale irripetibile e magari chissà se purtroppo o per fortuna irripetibile io ti saluto ringrazio ti ringrazio Gianpiero poi magari vieni la settimana prossima a raccontarci com'è andata certo sicuramente con qualche pezzo magari anche e l'appuntamento con i nostri telespettatori del canale 609 del Digitale Terrestre i nostri radioascoltatori per domani mattina sempre alle 7.20 e sempre con la rassegna stampa buona giornata grazie a tutti grazie a tutti